Un click per dire no al nucleare in Italia. Questa è l'iniziativa lanciata dal portale www.informaambiente.it, un quotidiano dedicato interamente all'informazione ambientale che oggi lancia una consultazione online sull'opportunità o meno di avviare una politica nucleare in Italia oggi. Ci siamo chiesti come gli ultimi eventi che sono accaduti in questi giorni in Giappone abbiano potuto mettere in crisi un piano industriale sul nucleare che già a nostro avviso a monte avrebbe dovuto prevedere tutti i possibili rischi legati a un possibile ed eventuale disastro ambientale. Non volendo entrare nel merito di quali siano i reali vantaggi del nucleare piuttosto che altre forme di sfruttamento energetico, oggi ci si chiede più che mai quali siano i rapporti stretti tra rischi strutturali e benefici del nucleare. Per esprimere il proprio dissenso basterà quindi collegarsi a www.informaambiente.it e cliccare sul titolo Dici no al nucleare in Italia. L'obiettivo è quello di raggiungere un milione di clic certificati per redigere un documento di dissenso da inoltrare alla presidenza della Repubblica Italiana. Grazie a tutti.